e ci siamo al via questa ventesima giornata del Gilone N di seconda categoria toscana buona ancora la difesa bianco-verde che recupera sempre questi palloni e Schillaci che prova ad approfittare dell'errore del centrale Beppe Schillaci al tiro sul portiere ma arriva prima di tutto Ippolito ancora l'estremo difensore della 3-2 Pian Castagnaio 1 contro 3 attenzione ai bianco-verdi messi malissimo il numero 21 entra vicino all'area di rigore invece si trova al limite dell'area il fallo commesso da Luca Cipriani ma c'è il cartellino rosso in un grande tacco riesce a servire il numero 29 ancora non è finita il pallone è dentro grande miracolo verticalizzazione per Ippolito la palla è buona Ippolito entra in area di rigore Ippolito, Ippolito a tutto per tutto con il portiere Ippolito! la sblocca lui il numero 11 bianco-verde Luigi Ippolito e serviva questo gol Mario serviva tantissimo perché naturalmente la Virtus era in difficoltà per l'uomo in meno e ci ha pensato Ippolito grande palla in verticale da parte di De Santis la 3-2 Pian Castagnaio così è infatti rimessa con le mani ma non c'è più tempo termina senza neanche un minuto di recupero il primo tempo 1-0 per la Virtus Asciano all'uomo in meno per altri 45 minuti è iniziato adesso il secondo tempo con la 3-2 Pian Castagnaio che prova era molto vicina al punto di battuta allora attenzione a parte il tiro di Fanetti piazzato bravo qua decidendo poi di andare ad alleggerire la manovra tornando da Bindi adesso sotto pressione da un giocatore della 3-2 Pian Castagnaio sbaglia l'impostazione allora può ripartire la manovra viola attenzione addirittura il tiro Euro goal incredibile Euro goal dell'atletico Pian Castagnaio non abbiamo visto chi ha segnato ma veramente veramente ma veramente un bellissimo goal su un errore sul disimpegno da parte di Marco Bindi credo Sorini Jacopo abbia su questo allontanamento però arriva prima di tutti Schillaci che danza sulla palla e va a servire Bocini Bocini Simone Bocini 2-1 Virtus Asciano e quando c'è la qualità si paga grandissimo Simone Bocini con questo piazzato all'angolino ma che numero ha fatto beh Peschillaci butta dentro velocissimo sia Bocini che Cantelli spada aspetta all'intervento di Bocini Bocini gol di Simone Bocini però nulla di fatto perché secondo il direttore di gara c'è offside quindi 2-0 per la squadra del Trequanda qua Spada che fa correre Simone Bocini in posizione regolare adesso Bocini contro Severini arriva anche Spada servito adesso Spada 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 gol Alessandro Spada 3-1 Virtus Asciano bravo qua Simone Bocini a non agire da egoista e a servire il compagno perché anche Spada aveva bisogno di questo gol parte la rincorsa di Spada direttamente in porta facile per Severini che non boccia e poi il gol che per non blocca poi il gol di Simone Bocini che però secondo il direttore di gara era partito in offside non c'è più tempo termina al 93esimo e 15 secondi questa ventesima giornata del girone N